Rendere onore alla memoria dei fratelli Rosselli, tributare un omaggio agli oltre 110 caduti che Giustizia e Libertà diede alla causa dell'Italia libera e repubblicana, nonché agli oltre mille combattenti che in essa militarono, riflettere sul passato e comprendere il presente. Sono questi alcuni degli obiettivi della mostra Fratelli Rosselli, storia di Giustizia e Libertà, inaugurata a Palazzo Ducale, nei locali del piano terra dell'ex caffetteria. Attraverso l'esposizione di 21 Pannelli si ripercorre parte dell'infanzia e della giovinezza dei due fratelli Rosselli, cresciuti in una famiglia di forte impronta risorgimentale e mazziniana. La mostra, curata dalla Fondazione Circolo Fratelli Rosselli, rimarrà aperta nel Palazzo della Provincia fino al 12 aprile ed è uno degli appuntamenti del ricco programma di Liberi Tutti 25 aprile a Lucca. Rosselli a suo tempo scandalizzò scrivendo nel 1930 Socialismo liberale, sembravano due principi assolutamente inconciliabili, invece nella sua azione e nella sua prassi lo erano, ma soprattutto credo che ci possano dire qualcosa anche oggi, cioè non è possibile vivere pienamente la libertà se non si creano le condizioni per cui questa libertà sia condivisa, sia costruita e d'altro canto senza libertà non si può avere una società che sia realmente capace di progredire civilmente. In questo senso, proprio in un momento di grandi disuguaglianze, di grandi radicalizzazioni, di grandi scontri sia a livello italiano che internazionale, forse ricordarsi dei Rosselli può veramente far bene alla coscienza civile del nostro Paese.